Andiamo. Torniamo indietro nel tempo per vedere che cosa ci ha insegnato. Coraggio, è la nostra storia. Tu e io. Fini. Sean e Angela. Dammi una vanga. Senza ragione, dammi una vanga e la tua testa. Chi è Angela? Insomma, una persona che frequentavo. Certo, tutti abbiamo una persona del genere. Lei ti manca? A me mancherebbero Riley e Maya se non ci vedessimo più. Pensi che i tuoi sentimenti torneranno a galla e che sentirei la sua mancanza e che tornerai a vivere dove sta lei? Non manchi mai il bersaglio. Già, signor Hunter. Credi che torneranno a galla i tuoi sentimenti? Maya, dovremmo andare anche noi a Filadelfia, secondo me. Lo pensi anche tu? Veniamo con voi. Va bene, Katie, possiamo portare via Maya per il weekend? Divertiti, piccola. Ragazze, prendete una vanga. Disotterriamo il passato. Yey. Coraggio, Topanga. Vuoi metterci un po' di impegno? Mi sono venute le vesciche e quelle che porto non sono proprio scarpe adatte. E voi che fate? Abbiamo diritto a una pausa. Avevo capito che si faceva un fosso a testa. Dicevi di sapere esattamente dove la capsula. Sì, certo. È esattamente da queste parti. Non mi diverto. Doveva essere divertente. Chi lo trova divertente? Ne ho fatta una anche per la testa di Maya. Dovresti scavare. Oh, ma io ho scavato per un'ora. E l'unica cosa che ho trovato è questa vecchia scatola. Corey? Che c'è? Sono turbato. Che cosa dovrebbe turbarti, Sean? Quello. Signor Matthews? Signor Hunter? Ci incontriamo ancora. Punizione? Punizione dei grandi, direi. Io non credo di sapermela cavare lì. Fini! Fini! Cosa, 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 cosa? Ehi, wow, wow, wow! Cosa, cosa, cosa? Cosa, 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 cosa? Ok, andiamo. Signora Matthews? Come va? Rimettete a posto i fiori. Eccetto quelli. A quelli posso pensarci io. Ok. Con permesso. Allora è un buon padre, mia povera cara ragazzina. Sono molto fortunata. Ed è un bravo insegnante? Sì, penso che sia il migliore. Ah. Ma lui dice che è lei. Oh. Ed è quella che stavate cercando? È la nostra capsula, ricorda. Io non dimentico mai niente. Vogliamo vedere se siamo cambiati. se siamo diventati come speravamo. Ha qualche consiglio, visto che siamo tutti qui? Beh, sì. È passato molto tempo. E siete ancora insieme. Cos'altro vi serve sapere? Girl Meets World A Disney Channel